Venerdì 7 aprile 2017, 97esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dell'Ariete. La chiesa ricorda San Cristiano. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Cristiano e Cristian. Accadde oggi. Il 7 aprile del 1795 viene per la prima volta adottato in Francia il metro come unità di misura della lunghezza. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri al cantautore Gianluca Grignani, nato a Milano il 7 aprile 1970. La citazione del giorno. Ogni istruzione seria si acquista con la vita, non con la scuola. Lev Tolstoi. Dice il saggio. Il ricco va in paradiso solo se muore nella culla. Proverbio tedesco. La parola preziosa. La parola di oggi è algido. Letteralmente questo aggettivo significa freddo, gelato. Viene però più spesso usato in senso figurato per indicare qualcosa di distante, distaccato. Ad esempio, una bellezza algida.